Il treno regionale 3517 di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 15.03, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rocchetto Sant'Antonio Lacedonia, Meifi, Barile, Rio Nero, Abel, Arriba Candida, Forenza, Filiano, Castella Dopesole, Possidente, Pietragalla, Avigliano Lucania, Potenza Macchia Romana, Potenza Superiore, Potenza Università. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.